La persona che ha prescatto vuole attivare? No. No, ti ho detto di no. Ti ho detto di no. Ti ho detto di... No? Ti ho detto di no! No! Benvenuti su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Link Evolution. Un grazie ancora alla Konami, che me l'ha fornito. E andiamo a iniziare dal primo Yu-Gi-Oh! Andavo alle elementari quando facevano questo Yu-Gi-Oh! alla TV. Alle elementari. Come vedete c'è la prima mappa, chiamiamola mappa, il regno dei duellanti. Dalle ombre dei giocatori si capisce che è Yu-Gi contro Joy. Quindi è proprio la dimostrazione del primo duello che c'è all'inizio del primo episodio quando Yu-Gi sui banchi di scuola sta mostrando a Joy come si gioca e Téa e Tristan lo prendono in giro. Cioè proprio non schippiamo niente. C'è un robot con un monocolo che ci spiega le cose. Sono già innamorato. Wow, che introduzione! Inf numero 8. Sa come raccontare una storia che non ho neanche letto però... Vabbè, bravo, bravo. Facciamo finta che sia stato bravo. So giocare già... Vabbè, posizioniamolo. Cioè ci deve pure dire che cosa dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare. E se io non volevo iniziare con questo ma con Cane e Nincan in attacco? Eh? Eh? Vuoi uscire da questo tutorial? Sì? Di che posso... No! No, lo devo fare per forza! Ma io non lo voglio fare. Che due coglia... raga. Che palle! Adesso devo stare qua. Eh, usiamo pure il deck uguale. Che beh, divertentissimo. È come quando da piccolo andavo al mare con il mio amico e ci prendevamo entrambi lo starter deck, quello con Kaius, monarca dell'ombra, e poi venivano rimossi tutti i mostri e non si capiva più niente. Che palle! Ma fammi giocare! Ma vuole che faccia le cose per forza! Cioè, devo giocare per forza questo. Ma se io ho lo standard e gioco Cane e Nincan posso buttarlo giù. Seleziona drago abitante. Devo giocare di nuovo questo? Ma ora mi devo abituare. Mi viene da trascinare il mouse come su Duelinks. Ok, sì. Evoco il mostro di livello 5. Va bene. Sì. 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 Ma perché non posso tributare? Ma devo tributare quello con 1.800. Vabbè. Ragazzi, ufficiale, il computer non sa giocare. Mi piacerebbe saperlo. Ma non lo sa. Non posso manca attivare Corsa Abbentata. Vabbè. Ti diamo anche Richiamo del Posseduto. Dai che voglio finire sto m**** di duello. Ora devo attivare Corsa Abbentata. Adesso. Prima non la potevo attivare. Era la stessa identica cosa. Grazie. Abbiamo finito con sta pagliacciata. Perfetto. Ero qui solo per fare il tutorial. Il video è finito. Ciao. Sto scherzando. Sto scherzando. Dai. Oh, adesso si comincia in grande stile con Yugi contro Kaiba. Il cuore delle carte. Il primissimo episodio. Quello dove Kaiba rapisce il nonno e lui va in ospedale perché ha giocato a carte. È un bell'anime Yu-Gi-Oh! Però io ve lo consiglio comunque. Ah, ecco. Possiamo usare la storia deck. Cioè il deck di Yugi. Se usiamo Yugi. Il deck di Joy. Se usiamo Joy e così via. O il deck utente. Ma il deck utente l'abbiamo già usato nel tutorial. Mi fa cagare. Usiamo quello di Yugi che fa ancora più cagare. Però almeno è più carina la cosa, insomma. Eccolo qua. Ci sono i pezzi di Exodia. Giustamente. Essendo ripreso dall'anime. Aha! La tua ascia da guerra non può niente contro il mio soldato di pietra. Sei to Kaiba? Un altro soldato di pietra. Lo baitiamo un'altra volta. Lo batteremo. La vittoria sarà nostra. Arte dell'evocazione. Va bene. No, regole antiche. Eccala. Eccala. Ci sono pure le animazioni. Regole antiche. Proprio easy way to evocare un drago bianco chi blu. Ma Kaiba tecnicamente nel primo duello non aveva regole antiche. Quindi qua stiamo un po' imbrogliando. Stiamo un po' imbrogliando. Ma ragazzi se tu Kaiba ha sul terreno tre mostri di cui uno di livello 8 sarebbe un vero peccato se io giocassi questa carta. Ops! Mi è scivolata sul terreno. Oh scusa! Scusami! Vai Castoro Guerriero! Conto su di te! Attaccalo direttamente! Oh no! La sua carta trappola! Sto cercando di fare come facevano loro nell'anime circa. Oh no! Il mio Castoro Guerriero è stato imprigionato dalla sua temibile carta trappola. Il suo mago delle acque è molto pericoloso. Ha un valore d'attacco di 1200. Sì ma che mer... Scusami eh! Ma scusa! Vai posizioniamo Grifor. Eh che palle però Kaiba! Mi hai già rotto le palle! Questa è una delle carte che mi ha dato il nonno. È la temibile carta trappola del cerchio incantatore. Nessuno era mai riuscito ad attivarla. Che mer... Comunque c'è. Vabbè mettiamo un mammut delle tombe perché mi rifiuto proprio di giocare zanna d'argento. La persona che ha pescato vuole attivare? No. No ti ho detto di no! Ti ho detto di no! Ti ho detto di... No! Ti ho detto di no! No! Adesso sì. Posso pescare una carta decente per favore? Ah Kaiba non potrei farmi niente per ben tre turni! Spade rivelatrici andate! E anche zanna d'argento. Intanto abbiamo pescato un altro pezzo di Exodia. Spero che sia scriptato perché sai no? Spade rivelatrici... Magari adesso ne pesco un altro... No. Kaiser la bestia. Kaiser la bestia! E poi Kaiser la bestia è una carta di Kaiba! Che cacchio ci fa nel nostro deck? Non ha se... Cioè è una carta di... Gliel'abbiamo fregata prima non lo so. Attacca il suo ascia da guerra! Polverizza! E vai a ca... Però. Intanto le spade rivelatrici sono andate a farsi friggersi. Oddio cuore del perdente! Ed ecco come pescheremo i cinque pezzi di Exodia. Con questa carta. Perché se entra tipo nel trip cuore del perdente. Cioè peschiamo tipo tutto il deck. O al massimo peschiamo una carta che ci serva insomma. Comunque lo sfoltiamo. Oh no! Lo sapevo io! Maledettissimo! Maledetto! Che non sei altro! Maledetto! 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 Questa la perdiamo malissimo. Forza riflessa! Ok possiamo attivare il cuore del perdente. Forza riflessa! Forza riflessa! Forza riflessa! No! Sankan! No! Mannaglia! Chi so io? Mannaglia! Cioè guardate cosa avremmo pescato. Avremmo briccato malissimo. Due tributi di seguito senza avere niente. Direi di ricominciare il duello. Non so voi. Ma cos'è sta mano di me? Raga! Raga! Due mostri da tributo e gli altri sono Debole e Selvaggio! Grifor! Curibo! Oh no! Anfora dell'abilità raga! Che cosa fa questa carta? Fammi leggere l'effetto. Pesca. Due carte. Allora non sono sicuro di aver capito bene l'effetto. Però proviamo. Prendi le prime due carte in cima al tuo deck con le dita, aggiungi le carte che hai in mano, poi manda questa carta al cimitero e tieni quelle carte che hai pescato in mano. Ecco qual era l'effetto. E beh, la prossima volta spiegati meglio. No, porca miseria. Abbiamo perso di nuovo. Ma io guarda. Ma io guarda. Oh, non è possibile. Se deve essere così difficile! Perché Yugi non può fare quella cosa che imbroglia e pesca sempre la carta decisiva come fa sempre? Perché solo adesso non lo fa? Allora, attenzione che questa già è una mano un po' più decente. A parte Kaiser la bestia che mi fa venire il vomito. E poi la cosa buona è che abbiamo il cuore del perdente e tre sanghan nel deck. Quindi, oddio, prendere Exodia non dovrebbe essere così male. Se solo le altre carte non facessero cacare. Io cerchio incantatore... Non voglio attivare. Non voglio attivare i cerchi incantatori. Sto morendo! Non voglio attivarlo! Eccolo lì. Eccolo lì. Regole antiche. Adesso lo possiamo attivare. Adesso lo possiamo attivare. Tiè, guarda qua. Sì che lo voglio attivare! Sì! Sì, lo attivo! Lo attivo! Lo attivo! Sono calmo, sono calmo ragazzi, sono calmo. Sono calmissimo. Oddio, spada in agguato. L'ha tributato per evocare spada in agguato. Oh, attiviamo il cuore del perdente. Iniziamo, iniziamo a riciclare. Vai, vai, vai. Sì, vai! Alla grande, sì! Un altro... Strappa possesso? Strappa possesso! Quanta voglia avrei di giocarla? Ma... Proprio sarebbe ancora più godurioso prendergli drago bianco occhi blu. Sarebbe ancora più godurioso. Ma se attivo doppio cuore del perdente pesco tipo due volte? Sì, credo proprio di sì. E si va a fare exodia proprio instant. Ragazzi! Guardate che cosa ho qui! Oh, yes! Mio! Adesso Kaiba? Eh? Eh? Adesso chi ride? Chi ride, Kaiba? Chi ride? Però, raga, non voglio batterlo perché lo voglio battere con... con exodia. Oh, un altro pezzo! Io posso usare Kurimo per limitare i life points ma me lo distrugge lo stesso. Quindi, ottimo! me lo distrugge, mi prendo il pezzo non perdo life points. Meraviglioso! Meraviglioso! L'ultimo pezzo di exodia in fondo al deck. Esatto. Dai! Dai! Pesco altre due carte! Dai, exodia! Exodia! Vieni a me! Oddio, ho pescato carità graziosa! Aspetta! Aspetta che c'ho un'altra pescata! Altre due pescate! Però c'ho pure carità graziosa quindi... Alla grande! Dai! Va bene! Di nuovo! C'ho 3000 carte in mano! Dai! Andiamo! No! Yes! Kaiba! Hai esagerato! Hai fatto finire mio nonno in un ospedale! Si è pure pisciato addosso! Quindi adesso parla con la mano! E questa era l'evocazione di Exodia. Evocazione! Evocazione! Vabbè! Insomma! Quanto è stato godurioso! Cioè mi sento veramente soddisfatto! Neanche quando ho fatto sesso la prima volta è stato così bello! Un parto ma ne valsa la pena! Direi di sì! Peccato che l'animazione di Exodia fosse un pochino corta! Cioè oddio! Vi ricordo dei videogiochi dove era molto più lunga ed epica di questa! Grazie!